Signora Wang, signora Wang. Signora Wang, è con noi. La sto ascoltando. Forse queste vi sembrano solo un mucchio di ricevute. Ma io ci vedo una storia. E so come andrà a finire. Non finirà per niente bene. Che sta succedendo? Evelyn, non sono tuo marito. Sono una versione di lui proveniente da un altro universo. Sono qui perché ci serve il tuo aiuto. Ho molto da fare. Non ho tempo di aiutarti. Nel multiverso ho visto migliaia di Evelyn. Tu puoi accedere a tutti i loro ricordi, le loro emozioni. Persino alle loro abilità. C'è una forza malvagia che si sta diffondendo nei molti versi. E tu... sei la nostra unica speranza per fermarla. Non voglio farti del male. Sono molto brava. Non ti credo. Wow! Mamma è molto brava. L'universo è molto più grande di quanto tu immagini. Tra tutti i posti in cui potrei essere voglio solo stare qui con te. Ricorda che dalla nostra missione dipende il destino di ogni singolo mondo dell'infinito multiverso. Non è possibile che sia io, Evelyn, che stai cercando. Ogni fallimento, ogni delusione ti hanno condotta qui. A questo momento. Non permettere a nessuno di fermarti.